L'amore è fatica. Gli individui stessi che vogliono vivere insieme sono più esattamente diventano sempre più i legislatori della propria vita, i giudici delle loro mancanze, loro i sacerdoti che assolvono con un bacio la loro colpa, i terapeuti che allentano e sciolgono le catene del passato, ma anche i vendicatori che fanno rappresaglia per le offese subite. Amore diventa una formula vuota che gli stessi amanti devono riempire. Se già l'amicizia è così complessa, quanto è complesso l'amore? Sentexupery e sua moglie Consuelo non furono capaci di cambiare il loro infelice rapporto di coppia, né di interromperlo. Il piccolo principe ha lasciato la sua rosa donna perché non riusciva più a sopportare i suoi capricci. La loro incapacità di legarsi li ha resi entrambi tristi e disperati. La rosa non voleva che la vedesse piangere. Era un fiore così orgoglioso. La relazione a questo punto è indubbiamente fallita. In un'ottica positiva si potrebbe parlare di una separazione di prova. Questo è un consiglio che capita spesso di dare nelle terapie di coppia quando i due partner si sono invischiati in un rapporto di amore e odio. Il piccolo principe vive le fasi decisive del sempre uguale dramma d'amore. E proprio sul pianeta del geografo di questo insensibile specialista incapace di provare sentimenti fa una scoperta dolorosa. Apprende che anche la sua rosa è minacciata di scomparire in un tempo breve. Il cuore gli si fa pesante. Il mio fiore è effimero, disse il piccolo principe, e non ha che quattro spine per difendersi dal mondo. E io l'ho lasciato solo. Nell'amore ci scontriamo con la caducità della vita in due modi. Da un lato, per legge di natura, ogni amore è delimitato da un inizio e da una fine. Nel caso migliore, quando due persone sono rimaste insieme nella buona e nella cattiva sorte, è la morte a segnare la separazione. E da questo è sufficiente a rendere l'amore un fenomeno toccante. Esso è una minuscola isola temporale nell'oceano del nulla e della finitezza di tutto ciò che è terreno. Gli amanti si augurano in genere, struggentemente, di rincontrarsi in qualche forma dopo la morte. E tuttavia, pur con tutte le dottrine speculative, dall'antropo Sofia alla risurrezione cristiana della carne fino alla reincarnazione del buddismo, non vi sono certezze. Ma la morte non è l'unica minaccia. Ogni amore, chi non lo sa, è messo in pericolo anche dalla nostra immaturità, dalle nostre debolezze, da un errore di valutazione iniziale o dall'evolversi dei due partner su percorsi differenti. Una massima bantù dice sposarsi. È come infilarsi un serpente in tasca. amare è rischioso. Si deve imparare ad amare, altrimenti si precipita. L'amore è, come ha detto Bertolt Brecht, una produzione. È lavoro. Il piccolo principe ha perduto la sua rosa, poiché ama, si sente particolarmente solo. Sta vivendo in realtà, come tutti gli amanti, la fase del disinganno. Che cosa vuol dire? Significa che all'inizio dell'amore, nella luna di miele dei nostri rosei sogni, noi proiettiamo sulla persona, chiamiamo tutto ciò che c'è di eccitante, nobile, bello e profondo. Siamo noi a idolatrarla, a porla come assoluto. Mettiamo in scena una grossa illusione, un miraggio psicologico e naturalmente nel farlo idealizziamo anche noi stessi, trasformandoci in nobili castellane o in trepidi cavalieri. Nella malia dell'amore iniziale vi è un narcisismo euforico ed euforizzante di entrambi, una sopravvalutazione di sé che porta a isolarsi del resto del mondo. Trasformiamo la preda del nostro amore nell'uomo o nella donna dei nostri sogni, assolutamente senza macchia. Ed è bene che sia così. Questo ci stimola a grandiose prestazioni, a superare noi stessi. Si consente di sgomberare il cammino da tutti gli ostacoli e di costruire un nido per il nostro amore. Alla fine di questa felicità, che ci ha reso ebri però, è necessario tornare sobri. A volte ciò può essere doloroso, come il risveglio dopo una brutta sbornia. Può infatti capitare improvvisamente di scoprire che il nostro partner ha diversi aspetti negativi. Ed è qui nel processo illuminante del disinganno che deve affermarsi la realtà del nostro amore, la sua robustezza, la sua capacità di crescere nel confronto e la sua resistenza alle crisi. Non dimentichiamo infatti che la coppia è in crisi. Due terze circa delle domande di divorzio provengono dalle donne, stanche del mancato rispetto del contratto matrimoniale. Spesso è proprio in questa fase di disinganno che si decide se il rapporto resisterà. I matrimoni oggi, come oggi, non si concludono più in cielo, ne devono essere tenuti in vita a tutti i costi, come avveniva un tempo, per ragioni puramente finanziarie. In passato queste costrizioni nascondevano, dietro alla faccia apparentemente stabile della coppia borghese, infinite sofferenze. Oggi la nostra è un'esistenza fai-da-te, che si svolge in una sorta di cantiere permanente. Tutto è in movimento, l'uomo e la donna, e naturalmente anche le coppie omosessuali devono discutere e decidere tutto insieme. Nei casi dubbi scelgono la felicità, non il legame formale. I percorsi delle nostre vite non sono più rigidamente determinati da tradizione, religione, provenienza geografica, origine sociale, convenzioni e pressioni sociali. Sono più flessibili, più atomizzati, più frammentati. La cosiddetta morale del consenso l'intesa con il partner su stile di vita, sessualità, pianificazione familiare, scelte professionali, eccetera, ha preso il posto della morale tradizionale. Donne e uomini sono oggi alla ricerca, attraverso il matrimonio senza certificato, di matrimonio, divorzio e matrimonio contrattuale. La lotta per conciliare professione e famiglia, amore e matrimonio, per una nuova paternità e maternità, amicizie e conoscenze. Tutto ciò è messo in moto irrevocabilmente. Oggi, alla fine di un secolare processo di individualizzazione della persona, poniamo a fondamento del rapporto di coppia, l'emozione dell'amore. Basiamo dunque, e qui va ricercato all'origine sia della nostra felicità sia della nostra miseria, una relazione pluriennale su un'emozione piuttosto fugace. All'amore, infatti, in nessun caso si comanda. Della fase di disinganno e dunque del processo di maturità dell'amore, fa parte un altro esame che ha a che fare con la polarità di legame e libertà. Il nostro piccolo principe, dopo aver camminato a lungo tra la sabbia, le rocce e le nevi, scopre una strada che, come tutte le strade, porta agli uomini. Buongiorno, disse. Era un giardino fiorito di rose. Buongiorno, dissero le rose. Il piccolo principe le guardò. Assomigliavano tutte al suo fiore. Chi siete? domandò loro stupefatto il piccolo principe. Siamo delle rose, dissero le rose. Ah, fece il piccolo principe, e si sentì molto infelice. E il suo fiore gli aveva raccontato che era il solo della sua specie in tutto l'universo, ed ecco che ce n'erano 5.000, tutte simili, in un solo giardino. Proprio questa verità ci capita di scoprire prima o poi. L'uomo, chiamiamo sopra ogni altra cosa, è un normalissimo bipede di sesso maschile, simpatico e intelligente, ma ci sono anche altri uomini, magari persino più attraenti di lui. La donna, chiamiamo, sopra ogni altra cosa, è bella, è capace, ma esistono anche altre donne, magari persino più belle. In realtà, ci diciamo all'improvviso amaramente, il nostro partner è simile alle altre persone, come una rosa alle altre rose. Non è altro che un uomo e una donna normale. In questa fase critica della relazione nasce spesso il desiderio di un altro partner, di una vita nuova, di un nuovo ruolo nel rapporto. E questo fa male. Abbiamo scelto il legame e ora bramiamo la libertà. Ma se vogliamo perseguirla senza riguardo alcuno, che fine fanno il nostro legame, la nostra collaudata partnership, i figli, la casa, gli amici? Come possiamo amare una persona pur sapendo nella nostra testa che è sostituibile? Che cos'è l'amore se potremmo potenzialmente amare innumeribili donne o uomini? Se abbiamo ancora poca esperienza? Non lo sappiamo. Allora, alla nostra prima difficoltà, ci sentiamo come il piccolo principe. Mi credevo ricco di un fiore, unico al mondo, e non possiedo che una qualsiasi rosa. Lei e i miei tre vulcani che mi arrivano alle ginocchia, e di cui uno forse è spento per sempre, non fanno di me un principe molto importante. E seduto nell'erba piangeva. La crisi del piccolo principe dovrebbe indursi a riflettere sui rapporti. Le coppie, giunte a questo punto critico, farebbero bene a indagare il segreto della scelta del partner. Perché ci siamo sposati? Questa è la domanda da porsi. Nel caso della rosa e del piccolo principe, due animi bisognosi e infantili, si sono evidentemente accoppiati in una sorta di unione di emergenza. Il loro rapporto appare simbiotico, appiccicoso, e da parte del piccolo principe eccessivamente protettivo. Egli trasforma il rapporto in un reparto di terapia intensiva, con le sue messe in scene caritatevoli, di mantenere la rosa e se stesso in uno stato di minorità. Le motivazioni della scelta del partner, nella loro segreta drammaturgia, sono tanto estreme quanto inesauribili. Ogni individuo ha, nelle proprie origini, una buona dote, ma anche un'ipoteca. Pensa di essere completamente libero nella scelta del partner, ma in realtà dipende fino a un certo punto dal proprio inconscio. L'intelletto, dice Nietzsche, è servo della volontà. Noi ci sposiamo, o diciamo comunque vita, un rapporto di coppia, perché nella casa dei nostri genitori ci manca il calore di un nido. Ci sposiamo perché vogliamo avere anche noi, un uomo, una donna, per rivalutare il nostro debole io, per cedere responsabilità, per essere accuditi, perché vogliamo un figlio, perché vogliamo acquisire prestigio sociale, oppure per sfuggire alla nostra solitudine, per avere una sessualità regolata, perché solo così possiamo permetterci una casa di proprietà, o perché ci sembra indispensabile dal punto di vista professionale. Ma ci sposiamo e amiamo anche perché il partner possiede qualità necessarie che a noi mancano. È coraggioso mentre noi siamo paurosi, istruito mentre noi non abbiamo terminato gli studi, fantasioso mentre noi siamo privi di immaginazione, di inventiva. Tutto ciò va considerato per padroneggiare la crisi e mettere in moto un processo di crescita personale e di rivoluzione nella coppia. Ha scritto sarcasticamente Nietzsche, non dovrebbe essere consentito, nello stato dell'innamoramento, di prendere una decisione sulla propria vita e di definire una volta per tutte la natura delle persone intorno a noi, in base a un appassionato capriccio. I giuramenti degli innamorati dovrebbero essere dichiarati pubblicamente privi di valore e si dovrebbe proibire il loro matrimonio, perché il matrimonio dovrebbe essere preso indicibilmente più sul serio. Per la fine di un rapporto esistono vari criteri diagnostici. Fondamenta carenti, scarsa disponibilità a impegnarsi, slealtà, oppressione del partner, mancanza di rispetto e attenzione, decisioni presi senza consultare l'altro, progetti tenuti in segreti, forti differenze nella pianificazione della vita, scarsi interessi comuni, mancanza di ironia, distanza fisica, avalizia. Se gli amanti al contrario crescono insieme in una cultura del confronto, se si danno reciprocamente fiducia, se trovano impegno comune, tenerezza, generosità, umorismo e gioia di vivere, se padroneggiano anche le crisi derivanti per esempio da una storia al di fuori della coppia, dagli insuccessi professionali e dalle preoccupazioni per i figli, allora nasce tra loro una nuova invisibile qualità. Ecco che cosa rivela al piccolo principe la volpe nel punto culminante del racconto. Ecco il mio segreto, è molto semplice, non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi, ripete il piccolo principe per ricordarselo. è il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la rosa così importante. È il tempo a legarci all'altro, ma non il semplice continuum fisico degli anni trascorsi, bensì il tempo riempito, come quello in cui abbiamo vissuto come esseri umani, fatto esperienze, imparato, creato, goduto e sofferto. La qualità è invisibile, ma essenziale del nostro amore può essere vista solo con il cuore. Ecco la fatica dell'amore, la lotta per ciò che unisce, rendere costruttiva l'aggressività, chiarire i rapporti, confrontarsi per trovare un accordo anche sulle noie quotidiane dei lavori domestici, discutere dei problemi quotidiani con i figli, lasciarli andare per la loro strada quando è il momento, affrontare in modo creativo l'invecchiamento comune. Dobbiamo operare una rivoluzione, una sintesi di coppia a livello sempre superiori. Questi, tra parentesi, sono anche i motivi per cui una terapia di coppia rappresenta una scelta intelligente e con ottime probabilità di successo. Soltanto la decisione comune di lavorare con un terapeuta vuol dire per la coppia avere compiuto metà del percorso. Significa porre fine alla guerra di trincea, ai silenzi amareggiati, ai ricatti sessuali, alle offese e al soggiogamento. Buttare in mare le diatribe sulla colpa, riavvicinarsi e riattivare le assubite potenzialità della coppia. Bisogna soprattutto imparare a parlare di nuovo con il nostro partner. La mancanza di dialogo è la morte del rapporto. Parlare è l'ossigeno dell'amore, ma deve venire dal profondo, altrimenti diventa una vuota chiacchiera e da origine a ogni tipo di malinteso. Il piccolo principe deve gettare nell'immondizia la sua sciocca campana di vetro e la rosa deve ritrarre le sue spine pronte a pungere. Va a rivedere le rose. Consiglia la volpe al piccolo principe. Capirai che la tua è unica al mondo. Ora il piccolo principe ha capito perché ama la sua rosa. Essa è il suo fiore. Ora può andare dalle rose e dire quello che nessuno di noi dovrebbe dimenticare. Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente, disse. Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a centomila altre, ma ne ho fatto il mio amico e ora è per me unica al mondo. E le rose erano a disagio. Persino le stupidaggini del nostro amore sono una sua espressione e segnano la sua elevata qualità soggettiva. Voi siete belle ma siete vuote, disse ancora. Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi assomigli. Ma lei, lei sola è più importante di tutte voi. Perché è lei che ho innaffiato? Perché è lei che ho messo sotto la campana di vetro? Perché è lei che ho riparato col paravento? Perché su di lei ho ucciso i bruchi? Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi e vantarsi? O anche qualche volta tacere? Perché è la mia rosa? L'amore è fatica, senza opere di manutenzione. Va in rovina, come una casa disabitata.